Spaventa per i ritmi di lavoro molto sostenuti, si sa che i medici che ad oggi lavorano nel campo dell'emergenza sono pochi, di conseguenza quelli che ci sono sono costretti a far fronte a turni davvero molto impegnativi, che possono diventare insostenibili ed esporre magari anche il rischio purtroppo di burnout in alcuni casi. È una branca bellissima però, è varia, eterogenea, è estremamente, insomma, veramente stimolante. Sono in tutto cinque i medici specializzanti impiegati in questo momento nel reparto della medicina d'urgenza dell'ospedale San Donato di Arezzo. Affronteranno quattro mesi di formazione e poi dovranno scegliere come proseguire in tutto cinque gli anni di specializzazione per una figura rarissima. È fondamentale che i medici impegnati in quest'area siano specialisti in medicina d'emergenza e urgenza e quindi abbiano fatto una scuola che preveda cinque anni di formazione. Non ci si può improvvisare in questo lavoro, bisogna essere formati per farlo. Noi siamo medici a tutti gli effetti, quindi visitiamo, prescriviamo, possiamo fare fondamentalmente tutto. Poiché però siamo medici in formazione specialistica, quindi ci stiamo specializzando nella medicina d'emergenza e urgenza, chiaramente non siamo autorizzati a dimettere, a fermare la fine, la dimissione di un paziente, come è giusto che sia. È previsto che qualcun altro poi alla fine controlli il nostro operato. Ad Arezzo ne mancano circa 15-35 in tutta la ASL Toscana sud-est. Importante quindi l'investimento sulle nuove leve. Il motivo è molto semplice, è una specialità molto bella che all'inizio attira, però i carichi di lavoro sono importantissimi. Non ci sono incentivi economici, è inutile girarci intorno. Fare una notte in pronto soccorso non è come fare una notte in un altro reparto. Bisogna dirlo ed è la verità. Per cui non bastano incentivi economici, bisogna permettere alla gente di lavorare nel miglior modo possibile, senza dei sovraccarichi importanti. E quindi anche chi è innamorato di questa specialità, poi alla fine si perde, si perde nel nulla. E cerca contro la propria volontà, perché gente cerca altre soluzioni che sono meno belle dal punto di vista lavorativo, ma più tranquille. Noi vogliamo cercare di creare un polo di formazione che poi, una volta che lo specializzando si è formato qui, può anche decidere di venire a lavorare, perché è cambiato un pochino il paradigma di un tempo. Prima si faceva concorsi, si veniva assegnati agli ospedali, ora in realtà anche noi dobbiamo fare un po' scouting. Bisogna convincere la gente a venire a lavorare in un posto dove trova un ambiente bello, un ambiente dove può fare il suo lavoro davvero, dove è sovraccaricato il giusto e questo non è semplice. E soprattutto che riesca a divertirsi nel fare il suo lavoro, fare gruppo. E quindi alla fine fa una scelta ben precisa, quindi l'obiettivo è un obiettivo futuribile.